Buonasera a tutti, finisce il ritorno tra International Deportaregre e River Plate con una vittoria... E' con l'acqua! La finalista è con l'acqua! Come potete capire, qui con noi Daniele Jacopino e Grande Bella che oggi hanno fatto una bellissima partita. Daniele, oggi una doppietta che ha significato la finale? Era da tanto che non segnavo, aspettavo questo momento. Sono stati due gol decisivi per la finale e speriamo bene. Oggi siete scesi in campo forse un po' troppo stanchi visto i giorni che ci sono stati di festa a Catania. Ma penso che ci ha servito. La vostra forza d'animo, infatti, è forse un aiuto dall'alto oggi è arrivato. Finalmente il gioco di squadra, non sempre l'ancilunico, non so, va bene, va bene così. E' stata una bella partita, infatti. Va bene, ringraziamo Daniele Jacopino e Grande Bella. Eccola qua! La finalista è con l'acqua! Andrea Massivino per commentare questa bruttissima sconfitta della vostra squadra. È andata veramente ottima, nonostante il brutto tempo, la pioggia torrenziale. 4-2 e ora questa sconfitta che ha dimostrato la vostra brutta partita di oggi. Sono stati più bravi, oggi siamo entrati un po' più sconcentrati rispetto all'altra volta. L'altra squadra invece era più unita e oggi abbiamo concretizzato poco noi, ho sbagliato. Davanti e anche dietro ci sono stati un baglio di errori. Oh, e doveva andare così. No, non si può proprio dire così. È stata più una vostra sconfitta da questo punto di vista. Hanno giocato bene loro, noi ce la siamo cavicchiata, però sono riusciti ad entrare nei nostri momenti di crollo psicologico. Infatti non abbiamo segnato. Certo, è molto rammarico quello che questa finale mancava. Sì, sì, però vabbè, ci stava. L'ora è una più brava oggi. Vi rifarete l'anno prossimo. L'anno prossimo, vediamo, vediamo. Va bene. Grazie a Andrea, complimenti comunque a River e ci vediamo mercoledì per le semifinali della Champions.